Oggi c'è questo evento nazionale che abbiamo portato in questa bellissima struttura innovativa in cui partiamo con un grande progetto di formazione che è l'Accademia PMI ma inoltre andiamo a fare scouting nei giovani che l'Apple Academy sta preparando quindi tramite un protocollo di intesa che andremo a siglare con l'Università Federico II da parte dei giovani di Confapi. Grazie a tutti.